Nella scorsa stagione è arrivato nel mese di gennaio, ha giocato poco ma quando è sceso in campo si è sempre fatto trovare pronto. Leonardo Nunzella, classe 92, è un terzino sinistro molto duttile. Può giocare anche a centrocampo che nel lanciano di D'Aversa proverà a ritagliarsi il giusto spazio anche se davanti c'è il capitano Carlo Mammarella. Il punto di vista umano mi ha dato tanto, tanti consigli anche se può sembrare contraddittori perché andrebbe contro i suoi interessi. Però mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanti consigli anche nel campo stesso, pure quando provi la tattica se sbagli qualcosa ti aiuta. Adesso Nunzella il ruolo di Roberto D'Aversa è diverso rispetto a quello dello scorso anno. È cambiato lui o è sempre lo stesso? No, no, sicuramente è cambiato. Si fa rispettare per il ruolo che ha e è giusto che sia così. Che cosa vi dice in particolare? È severo? Vi dà consigli? No, no, no. Sono cambiati. Comunque Roberto è sempre stato uno che... Anche in campo? Sì, ma io sono stato poco tempo, l'ho conosciuto poco, ma per quel poco che ho conosciuto è uno che tiene tanto a queste cose. È cambiato nei modi, ma anche prima ti aiutava tanto. Senti, i tuoi obiettivi personali quali sono? Oltre naturalmente a trovare più spazio. Personali possono essere solo quelli. Vorrei fare bene anche per la squadra. È importante anche quello.